Ha superato tre pandemie e la guerra mondiale senza perdere il sorriso. Nonna Giulia ha spento cento candeline sorvolando anche sul periodo difficile che stiamo vivendo, caratterizzato dai contagi da Covid. Lei ha trovato l'affetto nella casa di ospitalità di Via Tevere, dove vengono garantiti gli standard necessari assenti all'interno del perimetro urbano. Qual è il segreto per arrivare a un traguardo così importante? Io, Dio lo sa, perché il lavoro non è stato pesante che ho fatto. Per la festa dei cento anni c'era anche uno dei suoi tre figli. Molto emozionante, molto emozionante, se si considera il fatto che ha lavorato tantissimo. Ha lavorato sempre, fino a qualche anno fa, quando purtroppo le forze non l'hanno più aiutata. Qual è il ricordo più bello di mamma Giulia? Tutta la vita è un ricordo di mamma, non c'è una cosa in particolare. Mio padre, conoscendo le sue capacità, la lasciava fare, gli faceva fare tutto. Andava a lavorare e lei pensava a gestire la famiglia, a gestire i figli. Ha lavorato sin da bambino. La festa del centenario di nonna Giulia Flores è andata avanti all'insegna della gioia e della condivisione. Grande lavoratrice, mamma di tre figli, si è da sempre contraddistinta per la sua irrefrenabile forza di volontà e voglia di fare. Cresciuta con i principi di una generazione d'altri tempi, la signora Giulia racconta oggi con emozione una vita all'insegna del lavoro e dell'amore per la famiglia. Una vita felice, così l'ha definita, a tal punto che individuarne il momento più bello sarebbe addirittura difficile. Giulia Flores raggiunge adesso il traguardo dei cento anni e diventa un vero esempio per i tanti giovani di oggi che spesso tendono a demoralizzarsi alle prime difficoltà. E tutti mi hanno ascoltato, abbiamo fatto una vita troppo felice, non ho faticato del lavoro quest'anno. Insomma, però, una giovane può fare tutto quello che vuole, no? E si mette un pochettino di buona volontà e fa tutto. Io ho fatto tutto. Vissuto il clou del Novecento con tutti i suoi momenti difficili ed impegnativi, nonna Giulia ha assistito ai grandi cambiamenti della storia, dalla grande guerra alle diverse epidemie, senza mai arrendersi affrontando con determinazione e coraggio ogni singolo evento. Un esempio emblematico soprattutto per i figli che hanno incentrato la loro vita sul lavoro, seguendo propri passi della loro madre, simbolo di impegno e tenacia. Altruista e dal grande animo dolce, Giulia Flores è oggi un punto di riferimento anche all'interno della struttura proteica. È una persona meravigliosa. In certi momenti l'abbiamo ritrovata pure ad imboccare gli altri pazienti perché lei non riusciva a vedere gli altri non mangiare. Presente all'evento anche il sindaco Lucio Greco, che nel porgere personalmente gli auguri alla signora Giulia ha manifestato tutta la sua emozione per il raggiungimento di un traguardo così importante.